Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove ASICS Trabuco Max 2, la scarpa più ammortizzata di casa ASICS, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito a parlare del peso di queste Trabuco Max 2. Taglia 42, parliamo di una scarpa che pesa 305 grammi, nel mio 47 390. È un peso comunque abbastanza contenuto per non essere una scarpa da ultra, ma ultra ultra. È una scarpa che come vedremo veramente potremmo usarla per corse lunghissime e il peso in questo caso può fare la differenza. Quindi 390 grammi nel mio 47, ci stanno. Iniziamo come al solito a parlare dalla suola. Qui troviamo una suola proprietaria di ASICS, la ASICS Grip. E come mi ci sono trovato? Benissimo, davvero. Mi era piaciuto tantissimo sulla gel Trabuco 10 dell'anno scorso e vi confermo che è uno splendore anche quest'anno. Questa scarpa l'ho utilizzata, e vedrete adesso la ripresa, su una roccia bagnata, umidissima e non è scivolato per nulla. Veramente roccia bagnata perfetta. Fango, nessun problema. Davvero, è una suola molto morbida e tende un pochino a consumarsi molto velocemente. Nel senso che secondo me con questa scarpa se la utilizziamo su terroni particolarmente duri, non ci faremo tanti chilometri, ma su terreni morbidi e non troppo abrasivi vi assicuro dà il meglio di sé. Davvero è una suola che mi ha sorpreso tantissimo, cioè questa ASICS Grip a me continua a piacere. Mi piace molto poi anche il fatto che hanno cercato di ridurre il peso della scarpa andando a tagliare alcune parti della suola, però senza lasciare grossi parti di intersuola esposto e questo naturalmente ne allunga la vita. Per quanto riguarda poi la tassellatura, come potete vedere, è bella alta. Parliamo di 4,5 mm di tassello e abbiamo anche un bel numero di tasselli e questo, come vi dicevo, ci garantisce un ottimo grip sul fango. Passiamo però ora a parlare dell'intersuola, che è dove cambiano queste Trabuco Max 2. Qui troviamo un nuovo intersuola di ASICS, il FF Blast Plus. Questo intersuola è quello più morbido e amortizzante di tutta la categoria di intersuola di ASICS. Vi posso assicurare davvero che mezzo il piede qua dentro la scarpa risulta essere molto molto morbida, ma allo stesso modo anche molto reattiva. È sorprendente di sentire quanto si riesce a correre veloci pur essendo una scarpa che come altezza ha addirittura 4 centimetri sul tallone. Un drop di 5 mm, ma è veramente una scarpa molto molto alta. Questo poi ne vediamo anche dopo cosa vuol dire, ma vi assicuro che ha davvero un ottimo compromesso tra morbidezza e reattività. Essendo una scarpa da ultra, io mi ci sono trovato veramente molto molto bene. Ma saliamo, continuiamo a parlare di queste Trabuco e arriviamo a parlare di tutta la parte della Tomaya, iniziando dal puntale. Un puntale non tanto duro, un po' molliccio. Diciamo che se dovessimo prendere contro qualche roccia, probabilmente il colpo lo sentiamo. Però mi piace molto della parte del puntale tutta la parte plastica che poi continua fino alla metà del piede e che ci evita che arrivi in punta alla Tomaya. Questo garantisce molta più vita alla Tomaya idea che si strappi. Per quanto riguarda invece tutta la parte di Tomaya in mesh, questa è molto traspirante, molto leggera. Con questa scarpa sicuramente non ci suderete. E poi è una Tomaya che una volta che andiamo a calzarla per bene, fa sì che il nostro piede resti ben saldo. Ma di questo ne parliamo sui lacci. In generale comunque è una Tomaya con la quale mi davvero mi ci sono trovato molto molto bene. Una Tomaya con la quale, come dicevo, poi tutta la zona traspirante arriva quasi fino al posteriore. Quindi veramente molto molto traspirante. Continuando arriviamo a parlare poi della parte del tallone. Un tallone abbastanza rigido e anche nella parte superiore comunque tende ad essere un pochino rigidino. La parte buona è che comunque è molto imbottito e questo ci darà modo di evitare di sentire dei fastidi o di avere dei rossori delle vesciche a fine corsa. Sul tallone troviamo anche lo strap dove andare a mettere una possibile ghetta, se vi piace usarla. In generale, poi comunque è una scarpa che non è così tanto stabile. Essendo così alta ed avendo un tallone così comunque non tanto rigido, io qualche svirgolatina me la sono presa. Diciamo che finché corriamo tranquillamente, nessun problema. Terreni tranquilli andiamo via lisci. Quando iniziamo a parlare, non dico di tecnico, ma giusto qualche roccetta, qualche radice, qualcosa che potrebbe destabilizzare un po' il piede, ecco che magari qualche storta rischiamo un attimo di prendercela. Però, nonostante ciò, tutta la parte attorno, come dicevo, è molto morbida e ci riporta in asse abbastanza velocemente. Quindi, nonostante c'è il rischio, io una storta non me la sono presa. Continuiamo poi a parlare di tutta la parte della linguetta, una linguetta classica, imbottita, molto larga, svolge bene il suo lavoro, sta ferma, quindi nulla da dire. Lacci molto classici, davvero molto classici, però tutta la parte di tomaia e laccio fa sì che quando andiamo a mettere il piede all'interno della scarpa vi assicuro davvero abbiamo un fit fenomenale. Il piede qua dentro sta proprio serrato, non si muove, non c'è neanche il problema che magari in discesa possa andare a picchiare sulla punta. Davvero una calzata che a me è piaciuta veramente tanto. Cosa non da poco, che io apprezzo sempre tantissimo, abbiamo anche un laccetto sulla parte superiore dei lacci dove poterli richiudere in modo tale che non svolazzino. Per quanto riguarda la soletta, all'interno troviamo una soletta Ortolite brandizzata ASICS. Non ho da dire, le solette Ortolite mi ci sono sempre trovato bene, mi trovo benissimo anche su questa. È rimovibile, ma io non la cambierei perché ci sono trovato davvero molto bene. Per quanto riguarda l'avampiede, allora non è una scarpa wide o comunque larga come possono essere altri marchi, però comunque un qualche millimetro in più lo troviamo. Nel senso che nel momento in cui andiamo a correre su lunghe lunghe distanze dovesse ingrossarsi il piede per il maggiore flusso di sangue, la scarpa è già pensata per evitare che questo possa crearci problemi. Quindi qualche millimetro in più sull'avampiede lo troviamo, ma non la definirei una scarpa wide. Detto ciò, arriviamo alle conclusioni. Vi consiglio queste ASICS Trabuco Max 2? Sì, io ve le consiglio. Io le ho utilizzate durante il campo dei Fiori Trail da 50 km e mi sono trovato veramente super bene, ma questa scarpa secondo me sono a 50 km e anche quasi sprecata. Con una scarpa del genere io ci farei tranquillamente una 100 miglia, ma anche oltre. È una scarpa che veramente possiamo indossare inizio gara e la togliamo a fine gara, dopo magari aver corso anche i 200 km. È una scarpa la quale magari non è così duratura, come vi dicevo, nel senso che 600-800 km massimo, però per il resto materiali top, calzata top. Prezzo 180€ ufficiale ASICS, o lei lo si trova a 160. Io veramente mi sono trovato davvero bene e ve le consiglio tantissimo. Davvero tantissimo. È una delle migliori scarpe da ultra che ho mai provato e è una delle migliori anche di quest'anno, quindi nulla da dire, solo consigliata. Detto ciò ragazzi, io ne ho speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!